Oggi a Pescara, a Laurum, c'è questa importante tavola rotonda per parlare della doppia preferenza di genere. Presidente Andreini, in Abruzzo siamo in ritardo rispetto alle altre regioni. Perché? In Abruzzo siamo in grave ritardo. Stiamo cercando di correre veramente per strappare questa bandierina all'ultimo minuto, ma ce la faremo. Io sono molto ottimista sotto questo aspetto perché oltre al lavoro fatto ormai dal 2007 dalla Commissione Pari Opportunità e da tutte le donne che si sono impegnate per questo, adesso a supporto di questa battaglia c'è una legge nazionale che impone alle regioni di adeguare la normativa. Quindi io mi auguro che finalmente si prenda coscienza della necessità di questo adeguamento e oggi questo incontro è proprio perché possiamo avere, grazie al professor Mangiamelli che è un tecnico molto esperto, avere anche un quadro dal punto di vista giuridico completo della necessità di questo nuovo inserimento della legge. C'è una legge e questo vuol dire che qualora non dovessero essere rispettati questi parametri, qualora non dovesse essere rispettata la doppia preferenza di genere, si rischierebbe anche di invalidare le elezioni. Sì, ecco, questo è l'aspetto, diciamo, il bonus importante che ci fa pensare che comunque abbiano intenzione anche i nostri politici che in prima battuta qualche anno fa hanno cancellato questa possibilità con un voto segreto. Adesso questa volta penso che abbiano preso coscienza e speriamo che anche dopo l'intervento di oggi del professor Mangiamelli prendano pienamente coscienza del fatto che è necessario questo adeguamento, come diceva giustamente lei, onde evitare poi un'illegittimità della votazione che verrebbe fuori se si rimanesse con la vecchia legge in vigore. Grazie.